Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Voglio parlarti di come preparare più materie contemporaneamente, quindi insieme, per una stessa sessione o magari voglio farlo lo stesso giorno o giorni vicini tra loro. Ora, questo è un argomento che ho trattato anche in altri video, quindi se segui il mio canale non ti dirò nulla che è particolarmente nuovo, anche se quello che voglio fare oggi è cercare di spiegarti con una dimostrazione più grafica quello che ti ho già spiegato a parole. Faccio questo principalmente perché è una domanda che mi viene posta spesso in questo periodo e quindi voglio cercare di rispondere in modo ancora più chiaro e quindi con una dimostrazione proprio grafica e visiva. Quindi ti faccio vedere due strategie per riuscire a preparare più materie insieme e questo possono essere adattate in base alle esigenze di noi studenti. Infatti, da un certo punto di vista possiamo individuare un periodo specifico per studiare e possiamo dedicare questo esclusivamente ad una materia. Quindi, da un punto di vista prettamente grafico, voglio individuare la materia e rappresentarla attraverso questo rettangolo. Quindi una visione molto semplice e molto stilizzata. Quindi all'interno di questo rettangolo scriverò, per esempio, la prima materia che vuoi preparare. Ok, questa prima materia puoi prepararla o in parallelo o in modo seriale, sequenziale, insieme ad un'altra. Quindi questa, per esempio, è la prima materia che puoi preparare insieme ad un'altra. Quindi questa sarà la seconda materia e quindi puoi dedicare uno stesso periodo all'interno del quale studierai la prima e la seconda insieme. Quindi se vogliamo rappresentarlo, ad esempio, possiamo costruire un unico periodo all'interno del quale poi andiamo a individuare e posizionare entrambe le materie. Quindi lo faccio proprio da un punto di vista grafico così. Ok. Quindi quello che vedi in blu è il periodo in cui devi studiare. E all'interno dello stesso periodo dovrai studiare la prima e la seconda materia. Questo come puoi farlo? Come ti ho spiegato in altri video, potresti farlo, ad esempio, dividendo le giornate in due parti. Quindi una parte la dedicherai ad una materia, un'altra parte la dedicherai a un'altra. O magari puoi fare un'alternanza di giorni, un giorno per una e un giorno per l'altra. In questo modo avrai la possibilità di non rinunciare nell'una e nell'altra, ma ovviamente il periodo in totale sarà maggiore quello necessario per studiare nel modo corretto, perché ovviamente se devi dedicare metà giornata a una, metà giornata all'altra, e quindi magari ci vogliono un totale di 100 ore per una materia e 100 ore per un'altra, se devi dividerlo, comunque comporta un periodo di tempo più lungo nel tempo, appunto. Questo è il primo modello che voglio proporti. Se invece vogliamo studiare senza sovrapporre le materie in questo modo, quindi a questa visione in parallelo, quindi stai studiando proprio parallelemente sia l'una che l'altra materia, possiamo sovrapporne un'altra. Quindi questa è un'alternativa rispetto al modello che ti ho fatto vedere. Quindi dobbiamo prendere una prima e la seconda materia, facciamo l'ipotesi che sono esattamente le stesse materie in un caso e nell'altro. E in questo modo non possiamo dedicare lo stesso periodo a studiare entrambe le materie. Vogliamo, ad esempio, creare un periodo che è esclusivamente dedicato ad una tra queste. E quindi, per esempio, lo rappresentiamo al solito, il periodo con questo rettangolo blu, in modo tale da farti capire che in questo periodo devi concentrarti solo ed esclusivamente su questa. Successivamente, quindi quando avrai ultimato la preparazione di questa materia, non ti dico qui quale tecnica utilizzare perché ci sono tantissimi video nel canale in cui ti spiego questo e se hai qualche dubbio o qualche domanda scrivi nella sezione dei commenti o puoi scrivermi nella mail che trovi in descrizione e lì ti do delle spiegazioni un po' più dettagliate, più specifiche in basso al tuo caso. In ogni caso, qui ci interessa capire che in questo periodo stai studiando solamente questa materia. Ora, finito il periodo in cui studi questa, dobbiamo dedicarci a preparare anche l'altra e quindi possiamo tranquillamente dedicarci alla seconda in un altro periodo e quindi in questo caso avremmo creato una distinzione in due momenti diversi tra la prima e la seconda. Questa forma di organizzazione è utile, per esempio, se devi fare una full immersion in una materia. Quindi se è qualcosa che è particolarmente difficile, alternarla con un'altra potrebbe non essere la soluzione migliore perché questo potrebbe comportare il dover cambiare argomento di volta in volta e quindi un po' sconcentrarti da quello che fai magari la mattina perché il pomeriggio studi una materia che non c'entra molto con l'altra. Questo è un'idea che posso darti e che voglio proporti. Mentre se vuoi preparare appunto una materia che è particolarmente difficile con argomenti che sono molto specifici e che non puoi così prendere sotto gamba allora io ti consiglio di iniziare innanzitutto studiando una materia in un particolare periodo che potrebbe essere uno, due, tre settimane in base al tipo di materia e poi questi sono altri argomenti. Mentre dedicherai ad un'altra materia tutto un altro periodo. Questi periodi possono essere tranquillamente sequenziali ma non possono sovrapporsi come vediamo nel caso precedente. Prima di chiudere voglio dirti che se devi preparare un esame in poco tempo non c'è un modello rispetto all'altro che è migliore perché se fai attenzione se ti servono per studiare cento ore per una materia e cento ore per un'altra materia e quindi puoi o fare in modo che tutto il periodo rientri in duecento ore e stai studiando in parallelo o fai cento più cento e quindi sempre duecento è il valore finale ovviamente utilizzato duecento ore come termini molto generali solo a titolo appunto di esempio però per farti capire che comunque il tempo che ti serve per studiare la materia deve essere quello quindi questa non è una soluzione per imparare come studiare una materia in sette giorni non è questo l'obiettivo né del video né del canale né del mio approccio allo studio universitario quindi quello che puoi fare invece è riuscire a gestire queste caratteristiche delle materie e di conseguenza riuscire anche a organizzarti nello studio un'altra cosa quindi per concludere che voglio dirti è che se l'esame è in procinto di entrambe i periodi in termini di fine del primo periodo c'è l'esame, comincia la seconda materia, c'è l'esame puoi tranquillamente farlo quindi l'esame potrebbe inserirsi tra un periodo di studio e l'altro oppure puoi adottare anche un approccio che richiede un po' più sforzo da parte tua per cui potresti scegliere di preparare la prima o preparare la seconda e poi dare entrambe le materie alla fine del periodo di preparazione della seconda e quindi prima studi e poi dare l'esame l'uno dopo l'altro ovviamente qui sono necessarie delle strategie per riprendere quello che hai fatto prima perché passando il tempo ovviamente per come funziona la memoria non tutto sarà accessibile subito e quindi c'è la necessità di riprendere un po' il materiale ma ci sono le tecniche che funzionano e questo non è un problema è solo un discorso di saperle fare quindi spero di averti aiutato a capire in modo più chiaro più schematico, più semplice anche come preparare più materie insieme e vedi che ci sono delle strategie per poterlo fare ora ti ho dato quelle più semplici se vuoi sapere di più ti invito ad iscriverti al canale così possiamo vederle insieme vedere anche i casi specifici in base al tipo di materia anche al tuo momento nella carriera universitaria se sei in procinto di laurearti se stai appena iniziando se hai ricominciato dopo tanto tempo quindi ci sono casistiche e anche queste sono tutte circostanze che si possono risolvere con soluzioni adatte quindi ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato ti invito a scrivere nella sezione dei commenti se hai qualche dubbio, qualche incertezza, qualche curiosità ti risponderò con moltissimo piacere e a questo punto per quello che riguarda il video di oggi è finito qui e quindi ti aspetto in quello che uscirà domani